Il sottosegretario lo diceva anche il suo collega, in realtà sono pochi, la percentuale è bassa di chi non si è vaccinato, dobbiamo essere contenti, il popolo italiano ha risposto bene alla richiesta di vaccinazione, però è una minoranza che preoccupa molto, perché è una minoranza forse in parte sostenuta anche dalla politica, una minoranza dove poi vengono fuori frange particolari e anche forse un malessere generale che poi non possiamo negare che ci sia. Ha centrato assolutamente il tema, l'Italia è un paese fatto di persone pensanti che ragionano che in sagrana maggioranza hanno visto, dati alla mano, che il vaccino è il nostro più grande alleato per non avere che cosa? Le chiusure che metterebbero in ginocchio definitivo il nostro paese, quindi noi se ci vacciniamo continuiamo a fare delle cose, riapriamoci, spostiamo tra le regioni e riusciamo a salvare la vita alle persone. Se non lo facciamo il rischio è quello di dover vedere l'Italia ancora in zone gialle, zone arancioni, rosse, tutto chiuso e quindi l'economia assolutamente indietro. Il tema qual è? L'ha centrato proprio lei, noi non possiamo giocare politicamente tre partite, stare con due piedi in una scarpa, tutti i leader politici dovrebbero all'unisono dire tutti la stessa cosa, condannare queste violenze, non strizzare l'occhio o dargli un po' di gomito a queste frange violente e pericolose, che sicuramente non fanno parte di quelli che magari anche legittimamente vogliono manifestare un dissenso. Per cui io mi augurerei che il giornalismo che sta facendo un lavoro di documentazione, e mi approfitto anche per dare tutta la mia solidarietà a quelli che sono stati aggrediti, i giornalisti aggrediti in questo periodo, proprio da questi fanatici, perché non si può chiamarli diversamente, e mi auguro che queste persone, questi giornalisti, possano documentare a i membri del governo che effettivamente hanno il Green Pass e supportano questo tipo di scelta, che è una scelta del governo, che si possa anche documentare il fatto di chi tra i parlamentari va alle manifestazioni Novax, e quindi capire quali sono questi orientamenti, perché noi non abbiamo la possibilità di giocare più partite, dobbiamo dare un messaggio univoco, perché altrimenti succede che qualcuno si sente supportato, e non deve assolutamente essere così. Tra l'altro, visto che lei l'ha detto prima, voglio anche specificare una cosa, io sono personalmente contrario a un obbligo to cure, perché mi affido molto all'intelligenza delle persone. Il Green Pass si ottiene in Italia e anche in altre zone europee, perché ricordo che è un provvedimento europeo, quindi c'è un accordo molto ampio tra tutti i paesi europei, c'è da dire che si ottiene anche con dei tamponi negativi. Quindi non stiamo dicendo necessariamente, in certi casi, è ovvio che se la situazione peggiora, abbiamo queste frange che esagerano in maniera esponenziale, abbiamo difficoltà, è ovvio che poi dobbiamo riflettere su quello che accade nel nostro paese, per cui addirittura questo tipo di attività scongiura e va esattamente nell'esito opposto di quello che vorrebbero ottenere queste persone. Per cui io dico, abbiamo fiducia nella scienza, lo dico da biotecnologo, da chi ha fatto studi di biotecnologie, da chi ha avuto il Covid e da chi si è vaccinato proprio all'inizio di questo mese. Fate i vaccini perché sono l'unico strumento che abbiamo per uscire definitivamente da questo incubo che purtroppo ci è caduto addosso. Ecco, il Viminale ha scelto la linea dura comunque contro chi in questo momento ha intenzioni di creare in nome della libertà il caos nel paese, queste frange estremiste, di destra come di sinistra, quanto riusciamo a capire, persone che forse avrebbero detto no a qualsiasi cosa, c'è chi dice no, diceva una canzone, il no per principio. Quanto traspare di malessere sociale inteso anche come distacco dalle istituzioni, non fiducia nelle istituzioni, non mi fido più di nessuno, non mi fido della politica, non mi fido degli scienziati, insomma c'è questo genere di malessere nel nostro paese? Sì, probabile, però non si può dire, non si può fare una manifestazione dicendo una manifestazione inneggiando la libertà, quindi magari minacciando però di interrompere un servizio pubblico, quindi minacciando la libertà degli altri, mi sembra veramente fuori da ogni logica, tant'è che poi diciamocela tutta. Adesso bisogna capire anche qual è lo strumento, qual è l'entità della minaccia, perché oggettivamente una cosa è vedere queste azioni spregevoli, ripeto, di ricerca, caccia alle streghe, numeri di politici, numeri di scienziati, veramente siamo fuori da ogni logica, del resto anche le aggressioni al virologo Bassetti, non hanno veramente nessun, non le possiamo definire proteste, lì non c'è solo la linea dura del di Minale, ma lì c'è proprio una linea coerente con quello che è il pensiero della maggioranza del nostro paese, noi siamo persone civili, persone che hanno la capacità di confrontarsi tra noi, io vedere le immagini a Milano di un gazebo, di una forza politica che è un caso, che è quella che rappresento io, il Movimento 5 Stelle che è stata aggredita semplicemente perché stava raccogliendo delle firme in maniera pacifica, senza provocare etc., queste persone vanno sotto il gazebo e distruggono il gazebo. Stiamo vedendo proprio le immagini in questo momento, sottosegretario, le immagini di quel giorno. Si ringrazio, è raccapricciante, noi italiani dobbiamo assolutamente distanziarci da queste persone che non rappresentano nessuno, tant'è, lo dico per completezza, questi gesti sappiate che non rimarranno impuniti, ci sono già due arrestati per queste cose e nove persone denunciate, quindi attenzione perché va bene la protesta, ripeto, va benissimo, io sono uno di quelli che crede che la manifestazione del dissenso sia il sale della democrazia, però attenzione a dove si sfocia. Certo, lei è stato il primo ieri a ricordare che il reato di interruzione di pubblico servizio non è un reato proprio così, che te la cavi con poco, anche l'intelligenza al lavoro, la paura di infiltrazioni, per chiudere questa conversazione insieme. Il rischio è concreto? Siete molto preoccupati o moderatamente di quanto sta accadendo? Guardi, le nostre forze dell'ordine sono assolutamente attrezzate per far fronte a questo tipo di rischi, l'attenzione è altissima, ma di sicuro non c'è preoccupazione, dobbiamo essere attenti perché siamo organizzati per gestire queste situazioni, io mi auguro semplicemente che come stiamo vedendo anche adesso col passare delle ore, queste proteste come vedete si sgonfieranno, non ci saranno, saranno una minoranza, si rinvieranno a domani fino a che finalmente la ragione potrà avere la meglio, io confido molto nell'intelligenza del popolo italiano.